Purtroppo non so quanti siamo a Caminagresia, tutte le settimane c'è un appuntamento fisso a Roma con i quattro presidenti, i commissari urbani, spesso rappresentanti del governo, in cui tutte le settimane si perpunte sugli strumenti e si approvano gli altri vicini. Quindi intenzione di mantenere il suo impegno fino all'ultimo giorno. La normativa prevede il commissario unico dei quattro commissari, quindi necessariamente il governo dovrà nominare una figura a commissario in quanto riguarda il 10 settembre. L'obiettivo raccontato, quindi confermato dalle parole gentilioni ieri in conferenza stampa, è quello di andare sul modello che passando alla fase operativa sempre di più trasferisca compiti, ruoli e responsabilità sulle regioni e sugli enti territoriali. Non sono bassi questi numeri, perché a un anno da un sisma il fatto che sia ripartita tutta la macchina della ricostruzione è tutt'altro che banale. A rinforzo venuto il Presidente della Volta di nuovo e raccontava che in realtà che i sette anni della sisma non hanno ancora iniziato la minima attività per i costi di sette anni della sisma della Volta.